Royal Paddle Europe Pro 2022 è una novità in casa Royal Paddle perché è una racchetta che presenta il polietilene ARD al suo interno. La sua costruzione è in fibra di carbonio per quanto riguarda il fusto e le facce sono miste fibra di vetro e fibra di carbonio. Una racchetta molto aggressiva che viene fuori con pesi abbastanza sostenuti, intorno ai 365 grammi, è sicuramente adatta ad un pubblico esperto che vuole una racchetta particolarmente aggressiva, potente, con un alto controllo ma sempre con un buon grado di comfort che è il fiore all'occhiello appunto di Royal Paddle. Per il 2022 come tutte le altre racchette made in Argentina di Royal Paddle riceve l'aggiornamento con il sandpaper surface ovvero una superficie a carta vetrata che dona maggiori spin, maggiore controllo e quindi ancora più aggressività sui colpi. È adatta per chi cerca potenza, potenza sia ad alto regime sia potenza a meglio regime perché è una racchetta che ha un'uscita di palla abbastanza repentina ma la sua faccia in fibra di vetro consente comunque di avere un buon controllo sulla palla perché concede un certo affondo. Vuole un braccio esperto ed è rivolta ad un pubblico esperto. Il meglio lo offre sulla rete per quanto riguarda Smash, Viboras, Bandekas e Volé sempre portate con aggressività ma anche con fluidità riesce a dare molto.